Susi, pastore, non dormire più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. E Susi, pastore, non dormire più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. Susi, pastore, non dormire più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. Alzasi, pastore, non dormire più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. Alziamoci tutti allora in questo santo Natale, perché siamo noi, pastore, che vanno ad adorare. Alziamoci, uniamoci, non dormiamo più, lo odiamo e cantiamo. E allora cantiamo a lui la pace, cantiamo la gioia, cantiamo l'amore. Sì, cantiamo la speranza, così abbiamo voluto intitolare il pomeriggio di preghiera in campi e riflessioni sul Natale, che Maria Vision Trapani vuole vivere insieme a voi, anche se in questo momento così difficile, 55 cantori riuniti nel rispetto delle norme anti-Covid-19 e le riflessioni a cura di Monsignor Pietro Maria Fagnia di Vescovo di Trapani, per non dimenticare e per continuare a sperare. Mercoledì 23 dicembre alle ore 19 in diretta televisiva su Maria Vision, diretta internazionale, collegati con i centri di produzione televisiva di Guadalupe, Miami, Meggiugori ed Assisi, per alzarci e andare insieme ad adorare Gesù e cantare a lui la speranza. 23 dicembre ore 19 su Maria Vision, i nostri amici di Natale. A so se il pastore non dormire più, lo vedi che è nato un bambino Gesù. A so se il pastore non dormire più, lo vedi che è nato un bambino Gesù.